benvenuti o bentornati sul canale oggi rispondo a una domanda che da quando ho il canale aperto mi è stata fatta più e più volte ovvero ci mostri tutti i giocattoli dei tuoi figli ebbene oggi ve li faccio vedere proprio tutti ci tengo a precisare che in questo particolare periodo della nostra vita noi non facciamo la rotazione dei giochi perché ormai bambini sono grandi e non hanno necessità cioè non si stancano ma vogliono avere i loro giochi preferiti sempre a portata di mano in più come vedrete adesso che ve li comincio a mostrare si tratta per la maggioranza di giochi che facciamo insieme in famiglia e che quindi ci piace avere a disposizione per poter appunto sfruttare quando magari nel weekend vogliamo fare qualcosa sia stella e sebastiano insieme ma anche con altri amichetti o anche con me e col papà quindi adesso partiamo ve li faccio vedere tutti mettetevi comodi vi ricordo come sempre che giù nella descrizione del video trovate tutti i link che riesco a reperire di delle cose che vi mostro non tutte ci saranno perché alcune le ho prese di seconda mano alcune sono molto vecchie quindi quello che trovo ve lo metto rispondo a tutte le vostre domande anzi vi invito assolutamente a commentare perché sono sempre felicissima quando commentate di rispondervi di leggervi di scambiarci insomma due chiacchiere quindi mi raccomando lasciate un commento se viva e basta ci vediamo più tardi per i saluti andiamo a vedere tutti i giocattoli iniziamo da questa parte della cameretta allora qui ci sono due bambole che chi segue il canale da tanto si ricorderà questa qui l'aveva regalata mia nonna a stella quando era molto piccola mi sembra quando compie quattro anni mentre questa quando ne ha compiuti due gliel'abbiamo regalata io e mio marito queste sono entrambe di molarroti e sono veramente stupende se vi capita se avete bimbe ci sono anche da maschietto ve le consiglio perché sono bellissime non si reperiscono facilmente ma sono stupende e queste non ci abbandoneranno mai guardate il dettaglio dei visi sono magnifiche queste bambole ok poi qui c'è il carillon con dentro le cosine di stella il carillon con la ballerina questa è la luna che ci è arrivata a natale con il telecomando che si illumina appunto di di notte anche questa è un è un oggetto che vi consiglio ai miei bimbi piace tantissimo la sera la teniamo accesa spesso quasi spegne da sola dopo un po quindi è veramente molto carina qui abbiamo la chitarra di mio marito e l'ukulele dei bambini e qua sotto ho messo questa cesta con dentro tutte le parti del treno in legno che sono la maggior parte qui e un'altra parte ora ve la mostro però passiamo alla prima mensola allora qui ci sono la maggior parte dei giochi preferiti dei miei figli alla questa è una trottola che ci ha regalato una mia amica ha regalato a stella un bel po di tempo fa sempre per un compleanno e cioè io l'adoro è stupenda questa trottola in legno poi abbiamo questo che è lo shanghai che però è una versione stupenda dello shanghai poi color fox l'ho comprato usato al mercatino pochi giorni fa e a tutti questi legnetti colorati poi magari nei blog vi faccio vedere come ci giochiamo e belli questo gioco mi è piaciuto tantissimo a parte che mi piace esteticamente ma poi è facile e divertentissimo quindi è praticamente una sorta di domino poi abbiamo qui dentro tutti i giochi di carte quindi abbiamo batasaurus che è una versione un po diversa di batawolf un pochino più difficile queste batawolf che è proprio semplicissimo infatti se vedete l'età qui dice 36 anni qui 5 99 quindi un pochino più complesso poi abbiamo magic school molto carino questo è mini family anche questo bellissimo ci piace da morire questo è il preferito di sebastiano ultimamente house explorer fatemi sapere sotto se poi volete una spiegazione dettagliata appunto magari nei vari blog di questi giochi la cucaracha questo pure divertentissimo il classico 1 e questo che è meraviglioso ovviamente tutto quello che trovo ve lo metto giù nel nella descrizione del video tutti i giochi riesco a reperire questo è bellissimo minimis degree è bellissimo soprattutto a livello grafico per le carte perché guardate che carte cioè praticamente questo è il gioco dell'uomo nero ma con queste carte che sono veramente una più bella dell'altra guardate che sono stupende queste carte veramente non saprei dire qual è la più bella quindi insomma questo qui ce l'ha già da parecchi anni stella perché mi sembra saranno almeno due o tre anni che ce l'ha e tuttora ci giochiamo tutti ed è uno dei nostri cavalli di battaglia ci gioca anche sebastiano quindi ve lo ve lo straconsiglio ok siamo detto dentro poi qui accanto un altro gioco che assolutamente vi consiglio che non è un gioco ma un'opera d'arte è questo qui di munari che serve proprio questo è un gioco un po più particolare che serve per creare delle storie anche questo vi dico è veramente particolare come tipologia di gioco perché a tutte queste carte che si possono sovrapporre vedete l'uomo col temporale l'albero cioè è veramente spettacolare e sviluppa tantissime abilità quindi e poi è adatto per tutte le età quindi questo secondo me immancabile poi abbiamo alli galli questo è un gioco simpaticissimo di velocità che tra l'altro a questo campanello che i bambini adorano insomma questo qui è questo pensate che lo scoprì stella all'asilo quindi quando andava la montessori ce l'avevano in classe ce lo fece comprare perché lei lo adorava ed effettivamente è molto simpatico anche questo veramente qui c'è scritto sei più ma assolutamente no è questo si può fare anche da bambini può essere svolto da bambini molto più piccoli di sei anni quindi carinissimo proseguendo riparto giochi abbiamo indovina chi che neanche vi mostro perché è un classico della nostra età e insomma della nostra epoca quindi da avere assolutamente poi tablotto eccolo qui questo è un tablotto inglese quindi è un gioco che fa stella perché seba è troppo piccolo ancora di ericsson per imparare l'inglese molto molto simpatico questi sono giochi ovviamente istruttivi che hanno un significato cioè non è che sono anche abbastanza faticosi però per sviluppare imparare qualche parola in inglese io ve lo consiglio infatti vedete 18 anni più noi l'abbiamo comprato l'anno scorso questo poi abbiamo questa serie di gribaudo allora imparo con i magneti noi abbiamo quello sui dinosauri ma ci sono c'è i draghi insomma ce ne sono diversi e questo pure molto carino perché ha la plancia che è questa che ora sta al contrario vabbè e bisogna montare lo scheletro è una sorta di puzzle con però anche delle spiegazioni quindi molto simpatico questo devo dire rimane uno dei preferiti di sebastiano a distanza di anni poi abbiamo questo qui che se non ce l'avete compratelo perché un puzzle meraviglioso esiste anche la versione con i gatti 299 gatti un cane ovviamente molto più complicato di questo che sono 50 pezzi è nella mia wish list quindi prima o poi lo compreremo e comunque ve lo lascio giù in descrizione del video assolutamente bellissimo questo è uno dei dei puzzle più belli che abbiamo mai fatto devo dire proprio bello altro puzzle questo di sassi più piccolo questo se va già da un po che lo fa da solo aspettate che eccolo qui è carino carino questo gli piace sempre nulla di speciale però devo dire che i puzzle lui li ama molto anche questo questo è quello lungo da un metro viene fuori una cosa così è bellissimo fatto questo noi l'avevamo visto a barcellona in un locale dove erano a disposizione dei giochi per bambini e mia madre ha deciso di regalarglielo glielo avevo raccontato gliela regalato per il compleanno per natale non ricordo e devo dire è proprio bello tra l'altro già no questa marca qui c'è tutto quello che comprate è splendido ok passiamo a un'altra mensola riparto di sotto allora qui abbiamo il ego duplo sono tre scatole tutte mischiate che ho messo in questa cesta con la base e che sta appoggiata sopra il gioco dell'oca che questa versione gigantesca che però a loro piace tantissimo eccola qua tra l'altro questa le pedine in metallo le leochette in metallo colorate che sono stupende quindi lo tengo qui però perché per l'appunto è veramente troppo grande per essere messo sopra non riesco a trovarli un altro posto qui c'è il vulcano che si monta con il trenino quello che gli abbiamo regalato noi di seconda mano per il compleanno a sebastiano che sta lì dentro e passiamo di qua al reparto musica dunque qui abbiamo i vari carillon questo ce l'abbiamo da una vita e io continuo ad amarlo alla follia mi piace tantissimo anche la musica che fa questo uguale questi sono quelli non so se aspettate perché come è difficile con una mano sola però questi qui io li comprerei tutti li adoro mi piacciono tantissimo noi li compriamo alla città del sole ne avevamo preso un altro ma purtroppo è andato perso però proprio bello poi questi sono i salvadanai di stella questo l'ha fatto lei e dietro c'è quello di sebastiano e qui abbiamo gli strumenti musicali allora questo serve per la chitarra poi abbiamo questo che compro mio marito a stella quando andò a lisbona per un viaggio di lavoro stella era proprio neonata questi ce li hanno regalati a un evento all'auditorio ma qui siamo stati con i bambini quindi due di sebastiano e due di stella poi c'è questo che è bellissimo questa era della nonna gliel'ha regalato mia suocera era suo il kazoo questo l'armonica questi abbiamo presi tutti al negozio di musica e le maracas no le maracas scusate che dico le aiuto le nacchere questi ci giocano sempre cioè sono qui da sempre perché abbiamo iniziato a darli ci sono sul mio canale trovate video dove sebastiano gioca con queste cose che era veramente neonato e ancora ci gioca cioè questi sono proprio giochi eterni quindi se avete dei bimbi piccoli prendeteli perché gli strumenti musicali sono senza età piacciono sempre questa tra l'altro sono anche mio marito e non solo questa perciò comprateli altro reparto ticket to ride primo viaggio allora se avete bambini che si stanno approcciando ai giochi da tavolo vi consiglio di prendere questo primo viaggio ticket to ride è uno dei giochi dunque io e mio marito siamo amanti dei giochi da tavolo da da sempre da molto prima che nascessero i bambini abbiamo sospeso proprio perché con loro era difficile adesso stiamo ricominciando con queste versioni diciamo per bambini questa è perfetta per cominciare stella ci sta prendendo la mano non è facilissimo però per bambini diciamo da sei anni in su provate perché è proprio bello ticket to ride tutta la serie anche quello per adulti questo è anche questo un gioco di velocità si chiama robot face race dove praticamente bisogna trovare è proprio simpatico pure questo aspettate perché è difficile aprire le cose con una sola mano vediamo se c'è dietro mi so di no assi ecco allora avete questo strumento che vi fa praticamente vi 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 dice come sarà il vostro mostro quindi di che colore avrà gli occhi di che colore avrà la bocca eccetera e voi poi lo dovete trovare sulla plancia di gioco il primo che lo trova mette il suo segnalino è un gioco simpaticissimo devo dire la verità che ogni volta che vengono bim insomma che ci si gioca si divertono tantissimo quindi questo anche per i piccoli perché è proprio facilissimo come gioco però fa ingrippare come dire anche gli adulti cioè proprio ti manda ai pazzi poi abbiamo un memo che hanno regalato memory che hanno regalato a seba per il compleanno qui abbiamo il domino di legno pure questo ce l'ho da milioni di anni credo sia della gecko comunque ripeto trovate tutto sotto nella descrizione del video questo è uno degli ultimi arrivi ed è un quiz sui dinosauri a cui abbiamo giocato a natale chiaramente non è proprio da piccoli questo è le domande sono abbastanza difficili però se avete figli appassionatissimi di dinosauri come il mio sappiate che probabilmente risponderanno meglio di voi quindi molto simpatico della stessa linea ci sono altri non c'è solo i dinosauri ovviamente questo è di editoriale scienza qualsiasi cosa fa editoriale scienza secondo me è bellissimo io lo amo proprio poi qui c'è la bambola di stella che ha preso in montagna che ogni tanto veste le fa dei vestitini insomma quindi questo qui ok poi piano di sotto alla qui ci sono animali e dinosauri e anche qui di sebastiana animali draghi e dinosauri quindi abbiamo la maggior parte sono di scletch tipo questo la manta ce le stanno veramente tantissimi e anche questi io tengo solo quelli comunque fatti molto bene guardate che bello il mosasauro quelli fatti bene eccoli la scletch devo dire sono costosi ma fa dei degli animali meravigliosi questi aprono pure la bocca non ci sono imparagonabili a qualsiasi altro tipo di animale possiate acquistare per i vostri figli sono proprio il meglio e sono anche facili da rivendere poi quando non li useranno più ma queste miniature alcune di queste cioè io le comprerei per me sono bellissimi quindi abbiamo due ceste di animali e dinosauri qui invece ci sono altri giochi di società tra cui vabbè abbiamo le palline sono tre quelle da giocoliere si stanno esercitando ma devo dire sono delle pippe poi c'è questo che è la tumble tower pure questo lo trovate giù è quello dove si impilano questi mattoncini colorati e poi col dado bisogna sfilarli uno alla volta finché la torre cade e perde chi fa cadere la torre e questo è un po' lo stesso concetto però quello con l'equilibrio con i dinosauri quindi il sacchetto tra l'altro è carimi cioè mi piace tantissimo non so se ritroverò quale edizione è perché non ho più la scatola però è veramente molto curato anche il sacchetto per riporlo quello là invece quell'altro l'ho fatto io vedete sono questi che vanno impilati senza farli cadere però volendo ci si può giocare anche in altri modi cioè pure questo è uno di quei giochi che magari uno lo regala al bambino da piccolo all'inizio ci gioca come pupazzetti e poi crescendo lo usa come gioco di società perciò davvero bello niente con una mano non riesco a rimetterlo su andiamo sopra allora qui abbiamo due vestitini che ha fatto stella con la carta e poi abbiamo l'arcobaleno steneriano che non ci abbandonerà mai questo sicuramente ritrovo il link e ve lo lascio e questo che è un pezzo d'arte in legno un po' un po' lo stesso concetto della bambola di stella che sta là sotto lì cioè sono dei pezzi d'arte di fatti questo io non credo che ce ne libereremo mai è bellissimo lo lo amo ebbene quindi questa era tutta questa zona adesso vi mostro invece dalle cosa c'è nei comodini nella zona comodini questo è il comodino e il letto di sebastiano con i suoi due peluche con cui dorme il suo cuscino a stella qui abbiamo il mappamondo questo si illumina e di notte praticamente si vedono le costellazioni vedete mamma mia questo qui è uno dei pezzi più belli che abbiamo in casa cioè è meraviglioso io veramente si può anche staccare questa l'alimentatore io questo è un pezzo che consiglio a tutti di comprare ha un costo chiaramente però cioè è stupendo poi di notte è qualcosa di magico è bellissimo quindi insomma veramente se potete prendetelo queste le hanno regalato quando era piccolo piccolo è una lucina che si illumina di notte ed è pure un po' morbidosa sapete di quelle che uno accende la notte se i bambini non dormono ecco è delizioso proprio carinissimo quindi comunque continua ad amarla il suo libro preferito il grande libro dei dinosauri è un cercatrova poi nel cassetto invece abbiamo il telecomandino di questo questo che è un profumatore questa è di stella e faceva parte di della linea del 20 dell'anno scorso di bortolato ma questa non le serve più e l'ha dato a sebastiano per giocarci lui e poi abbiamo queste che sono le vedete le torce che proiettano sul muro ora non si vede perché non è buio le storie le immagini queste a tema dinosauri e quello di stella invece a tema streghe ma va e tanti di voi hanno comprato queste insomma questa serie e avete fatto bene perché è bellissima anzi vi ringrazio a chiunque lo abbia fatto con i miei link per sostenere appunto il canale il mio lavoro e ve li lascio sotto sono molto difficili da trovare devo dire la verità a periodi non ci sono magari cambiano le edizioni non sono esattamente le stesse però questo qui noi la sera per noi è veramente un must cioè è proprio un bello bello come tipo di gioco spostiamoci di là sul muro ci sono sempre gli acchiapposogni quelli proprio vecchissimi le i quadri quindi le le opere di emma bloc questo è di piccole donne questo l'avevo preso a sebastiano sugli scoiattoli perché lui è un grande amante degli animali fa fatica a mettere a fuoco e questa è la donna che va a comprare i fiori col cagnolino sono tre opere di un artista che sapete io amo molto quindi ok di qua reparto comodino di stella stella ha il suo arcobaleno e pippolina la sua il suo unicorno con cui dorme da quando era piccolissima e questo qui è il suo comodino allora libro delle streghe che è il suo preferito la lampada mia di quando ero ragazza qui un altro con gli orecchini un altro carry on con gli orecchini questo gli erano regalato per compleanno il cassetto di stella un po più incasinato alla qui c'è la ricarica e tutte le cose relative alla luna qui c'è il suo ipod per ascoltare la musica con le cuffie e qui ci sono i dentini che lei tiene quando le cadono e qualcosa che le hanno regalato le sue amiche ma per me è vietato quindi non lo guardiamo ebbene questa è tutta la stanza concludiamo con questa parte che non vi ho ancora mostrato questo qui è sempre lui l'albero durante le stagioni in imola roti ho visto che adesso si trova un pochino di più io l'ho visto nella libreria vicino casa mia ce l'hanno se lo trovo che lo metto giù un periodo era introvabile è proprio bello questo ne lo cambiamo ogni stagione in realtà siamo ancora in autunno caspita non abbiamo cambiato quindi nel prossimo blog lo cambiamo ci siamo dimenticati di mettere l'inverno è ancora in autunno e vedete infatti la stagione c'è autunno perché i bimbi cambiano le giornate da soli però si sono scordati di cambiare la stagione perché se no io lo dico io loro ovviamente non se lo ricordano e sotto abbiamo i libri di questo periodo che sono il muro un classico stupendo da avere grandi piccoli medi tutti mi suona il corriere torno subito rieccomi torniamo ai nostri libri quindi vi dicevo il muro da avere grandi piccoli a qualsiasi età meraviglioso meri si veste come le pare questa è una storia vera che parla di femminismo assolutamente riscatto femminile penso che tutte le bambine dovrebbero avere una copia di questo libro oltre al fatto che è stupendo a livello grafico ma è anche una storia proprio cioè da avere soprattutto le femmine ma anche i maschi secondo me assolutamente poi questo piano piano ve ne ho parlato tra i libri preferiti del 2023 ve lo lascio qua sopra e giù nelle schede il video andatelo a recuperare e poi qui sotto abbiamo gentile anche questo libro che adoro al di là non ne parliamo questo se non lo conoscete anche in questo caso vi lascio un video qua sopra e giù nelle schede dove lo mostro nel dettaglio e vi dico che questo è uno dei libri più belli se non il più bello che abbiamo nella libreria nel reparto libri illustrati quindi andate però a vedere perché davvero vale la pena e non lo conosce quasi nessuno e poi un fiume anche questo molto bello questo bella grafica si vede già dalla copertina è qualcosa di spettacolare tra l'altro voglio recuperare qualcos'altro di questo autore perché mi piace moltissimo concludiamo da questo lato con ancora un attività un gioco della giorno che è l'italia questa è magnetica tra l'altro hanno invertito la sicilia e la sardegna questa ora la fa sempre sebastiano e aspettate perché è difficile riprenderlo senza riflesso e questo è proprio anche questo mi piace da morire ma devo dire lo ripeto in continuazione perché tutti i giochi dei miei figli io li adoro questo è bellissimo c'è l'italia c'è l'europa e c'è il mondo che il mio preferito prima o poi glielo compreremo ve lo lascio sotto nella descrizione andatelo a vedere è qualcosa di magnifico il mondo l'hanno comprato dei nostri amici alle figlie per natale e vederlo dal vivo appeso in camera è qualcosa di magnifico quindi lo amano tantissimo i miei figli entrambi si vi faccio vedere le collanine questa è ermione e di qua da sebastiano abbiamo ron i loro personaggi preferiti di harry potter concludiamo con gli ultimi giochi che hanno qui in salone allora questo è e l'avevo già fatto vedere l'hanno fatto loro con un do it yourself avevo già parlato in un video dove ve lo mostravo un kaleidoscopio bellissimo che hanno fatto loro tra l'altro di là avete visto il sacchettino con le cose da poter cambiare proprio bello anche questo ve lo consiglio questo ce l'abbiamo da una vita di molan roti che insieme a giano sono i miei marchi preferiti devo dire la verità è così bella che non credo la darò mai via qui abbiamo una serie di macchinine di mio figlio di sebastiano varie di vario tipo gliene regalano tantissime però diciamo che per la maggior parte questa è la regalata il nonno recentemente una delle ultime per la maggior parte sono oddio come si chiamano aspettate che ve lo dico sono queste che non mi ricordo neanche come diamine si chiamano male hot wheels ecco immagino che le con chi ha figli maschi più o meno queste macchinine le conosca perché ce le regalano a pacchi ai compleanni e vabbè quindi stanno qui poi questo che era di sebastiano da piccolino ma lui non lo vuole lasciare andare perché i miei figli comunque fanno decluttering dei loro giochi cioè quando si stufano dicono loro di darli via questo lui non si stufa mai lo vuole sempre quindi ancora ce l'abbiamo nonostante sia un gioco da bebè si può dire e poi questo che è simpaticissimo ovviamente ci sono tutti questi boh queste cose che si attaccano una con l'altra e si possono fare tipo delle costruzioni molto molto simpatico questo gli aveva regalato mia suocera durante il covid e anche questo ancora gli piace lo usano e quindi ce l'abbiamo e basta perciò questi erano tutti 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 i giochi che possiedono attualmente i miei bimbi ebbene rieccoci qua io vi ringrazio per essere stati con me e avermi dedicato anche oggi il vostro tempo e spero che il video vi sia stato utile vi abbia dato qualche spunto qualche idea per chi non mi conosce specifico che i miei figli hanno attualmente 4 e 7 anni e sono maschietto e una femminuccia vi saluto un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao